Il tunnel Schio Valdagno e la Galleria Vallemiara di Valdagno saranno chiusi in orario notturno nei prossimi giorni. La chiusura si è resa necessaria in quanto sono previsti lavori di manutenzione che riguardano l'impianto antincendio, videosorveglianza, la pulizia della sede stradale dei Pozzetti, la segnaletica verticale, la rilevazione della qualità dell'aria in galleria e l'impianto di illuminazione. È prevista la chiusura dalle 21.30 di mercoledì 17 aprile alle 5.30 di giovedì 18 aprile e dalle 21.30 di giovedì 18 aprile alle 5.30 di venerdì 19.